sei impazzito urlò roberto era lui adesso a perdere le staffe come faccio a saperlo l'hai detto anche tu che fare i calcoli e per deficienti già ci rompono a scuola ci manca solo che mi metta a sognarlo rilassati disse il mago per questi problemucci abbiamo la nostra calcolatrice tascabile sì tascabile ma si crede come un divano osservo roberto comunque ha un tasto con scritto avrei già capito cosa significa rapa esclamò roberto perfetto adesso prova rapa di 5929 uguale roberto provò e subito sullo schienale del divano apparve risultato 77 stupendo adesso però viene il bello per favore schiaccia rapa di due e reggiti forte roberto schiaccia i tasti e vide comparire 1,41421356237309504880 che orrore disse non ha nessun senso è una specie di insalata russa di numeri non ci capisco più niente nessuno ci capisce niente che era roberto e questo è il problema la rapa di due è appunto un numero ragionevole e come faccio a sapere come prosegue dopo gli ultimi tre numeri perché l'ho già capita che avanti all'infinito infatti ma non posso esserti d'aiuto le cifre successive le trovi solo se continui a calcolare fino a quando non sciopera la calcolatrice pazzesco disse roberto davvero incredibile a scriverlo nell'altro modo ora dice rapa di due quel mostro non è poi così mostruoso è vero per scrivere rapa di due ti basta un bastone da passeggio il mago dei numeri tracciò alcune figure nella sabbia guarda e adesso provo a contare i quadratini piccoli noti qualcosa? certo sono tutti numeri saltellanti 1 per 1 1 alla seconda uguale a 1 2 per 2 2 alla seconda uguale a 4 3 per 3 3 alla seconda uguale a 9 4 per 4 uguale a 4 alla seconda uguale a 16 sì disse il mago certamente avrei capito come funziona devi solo contare quanti sono i quadratini su ogni lato del quadrato hai subito il numero con il quale devi saltellare e viceversa se sai quanti quadratini a tutto il quadrato facciamo 36 e da questo numero tiri fuori la rapa torni al numero di quadratini di un lato radice di 1 uguale a 1 virgola radice di 4 uguale a 2 radice di 9 uguale a 3 radice di 16 uguale a 4 ok disse Roberto ma questo cosa c'entra con i numeri ragionevoli? sai i quadrati sono tipi strani di loro non ti devi mai fidare hanno quest'aria bravina ma possono anche essere delle carogne guarda questo ad esempio tracciò nella sabbia un normalissimo quadrato vuoto poi dalla tasca prese un righello rosso lo mise di traverso e se ogni lato è lungo uno come uno? un centimetro, un metro o cosa? ma è uguale disse il mago spazientito scegli tu puoi chiamarlo un bingo, un bang come ti pare? e adesso ti faccio una domanda quanto è lungo il righello rosso nel mezzo? e come faccio a saperlo? rapati due esclamò il vecchio triunfante aveva un ghigno diabolico e perché? Roberto aveva di nuovo la sensazione di essere stato colto di sorpresa non te la prendere disse il mago ci arriviamo subito ci mettiamo sopra un altro quadrato storto così tiro fuori altri 5 righelli rossi e li mise sulla sabbia adesso la figura era così ora indovina quanto è grande il quadrato rosso quello storto e che ne so è esattamente il doppio di quello nero devi solo spostare in uno dei quattro angoli del quadrato rosso la parte inferiore di quello nero e capisci perché sembra uno di quei giochi che facevamo sempre da piccoli penso Roberto si piega un foglio che all'interno si è dipinto di rosso e di blu sono il paradiso e l'inferno e chi lo apre e prende il rosso va all'inferno ammetti quindi che quello rosso è il doppio di quello nero lo ammetto disse Roberto bene se il quadrato nero come avevamo stabilito è grande un bang possiamo scriverlo così uno alla seconda e quanto sarà grande quello rosso il doppio disse Roberto quindi due bang spiegò il mago quanto sarà lungo ogni lato di quello rosso per calcolarlo devi saltare all'indietro tirare fuori la rapa si esclamò Roberto che aveva capito tutto rapa disse rapa di due e così siamo tornati al nostro numero sballato e ragionevole uno virgola quattro uno quattro due uno tre fermati fermati disse subito Roberto altrimenti impazzisco anch'io è meno peggio di quel che pensi lo tranquillizzò il vecchio non ti ho mica detto di calcolare il numero devi solo scriverlo nella sabbia basterà però non credere che questi numeri ragionevoli siano rari anzi è vero il contrario sono frequenti come granelli di sabbia detto fra noi sono addirittura più frequenti degli altri numeri ma non mi avevi detto e stradetto che erano infiniti anche quelli normali e infatti è vero lo giuro però appunto di quelli ragionevoli ce ne sono molti di più di più di cosa? di più di infinitamente tanti? esatto non esageriamo disse Roberto sicuro di sé non ci casco più di infinito non esiste è una scemenza vuoi che te lo dimostri? chiese il mago vuoi che faccia una magia che compaiano tutti tutti i numeri ragionevoli insieme? no no ti prego mi è passato il serpente di nove e poi facendo una magia non è che dimostri niente è vero stavolta mi hai dato una lezione il mago di numeri però non se la prese corrugò la fronte e si mise a pensare intensamente eppure disse alla fine forse la dimostrazione mi viene ancora in mente potrei provarci ma solo se insisti no grazie per oggi basta sono stanco morto voglio fare una bella dormita altrimenti domani a scuola sarà peggio del solito se non ti spiace mi metto giù un momento quell'affare mi sembra molto comodo si straiò sulla calcolatrice morbida lanuginosa e grande come un divano fai pure disse il vecchio ti sei già addormentato dormendo si impara più facilmente questa volta il mago di numeri se ne andò in punta di piedi per non svegliarlo forse non è poi così male fece in tempo a pensare a Roberto anzi in fondo è quasi simpatico dormì tranquillo e senza sogni sino a mattina inoltrata aveva dimenticato che la domenica e la domenica non si va a scuola non si va a scuola